Enrico avete vinto un'altra volta la partita del cuore nazionale cantanti come è stata stasera allora innanzitutto abbiamo perso perché io sono da stars del cinema però hanno vinto gli altri ma non importa perché non è importante ma non è importante la è importante l'effetto cioè l'effetto cuore la partita del cuore fatto fatta con il cuore a qualcuno l'ha fatto anche poco cuore sono morti dopo dieci metri ma non importa è importante aver raccimolato un po di soldi per aiutare le persone che soffrono e quindi siamo molto contenti e come va come va tutto tutto bene a casa come entrare sempre all'olimpico Enrico come stare qua all'olimpico è una bella zona allora tu dici lo stadio è affascinante è suggestivo insomma di questi gabbiani che sai che c'è tantissimi gabbiani abbiamo visti oggi non so perché sono i gabbiani ci sono per la monnezza o perché c'è l'elezione del nuovo sindaco non te lo so dire per quale motivo però lo stadio olimpico vuoto ha la sua risoluzione pieno ancora di più mezzo pieno e mezzo vuoto bisogna sempre essere positivi vedere sempre lo stadio mezzo pieno cosa parete che tu sei sempre impegnato sul fronte della beneficenza del fare del bene per il prossimo sei sempre stato in prima linea sì insomma come posso quando posso non sempre 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 però quando ho potuto l'ho fatto molto volentieri per cui ragazzi questa partita è finita io vado a fare la doccia la cosa bella dopo una partita che hanno fatto gli altri e farsi la dolce grazie Enrico grazie ancora ciao grazie